Ah, la musica, scema di merda. Poi mi dici se è troppo alta la volume. Eh vabbè, non è possibile questa cosa. Aspetta, mi è arrivato un messaggio. Mi puoi dire se è troppo alta la volume ARC. Non ora, dubbi. Non lo accetto. Troppo alta per me. Non lo accetto. Sono soldi. Mi hanno detto... A quanto pare c'è stato un problema al lancio con sto gioco. No? Che non ti faceva salire di livello e roba del genere. No? E quindi hanno detto... Vabbè, facciamo... Sono stupido, non ho cambiato le... OBS, non ho cambiato le informazioni, sono stupido. Non ho avviato la cosa e sono stupido. Ehm... Ehm... Cioè non ho... Non ho cambiato le... Le informazioni, sono stupido. Perché non ho mai sapete evitare... Ma lì... Ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato. Che imbarazzo Non mi sta Che imbarazzo lo dico io Non me ne aggiornate Mi ha cambiato il titolo No, adesso mi ha cambiato Non lo so Ok, vai Ho cambiato tutto Che imbarazzo Oh no, non ci avevo fatto caso Il personaggio Nel coso qua Nel gioco Il primo principale Segue con gli occhi la freccettina Non ci avevo mica fatto caso Quindi lo posso far diventare tutto stupido Metto i dpi apposta Sono stupido Allora Io direi Allora un pochino l'ho personalizzato Il mio personaggio, ma poco poco Io direi Di Farmi una mini Una mini personalizzazione E poi A parte che puoi farti anche cosa Puoi farti anche Volendo, se c'è la sbatta Puoi farti anche le Come si chiama? Jon Snow Perché il tazzo si può fare Sicuro Se te adesso hai il tempo di guardarlo Allora, questa qui è tipo la mia armatura Tipo Molto tipo Ciao Mire Che imbarazzo Marcello Eh scusa Quanti Quanti Ciao Ciao Questa qui è tipo la mia armatura Marcello No, non ho voglia di prendere Sto è Spiga Eh? Sto è Spiga Puoi farlo grasso Il personaggio Ah Puoi farlo grasso Puoi farlo grassissimo Magrissimo Enorme Tanto Non serve a niente Però Anche il viso Però poi ti metti l'elmo E quindi E' Imbarazzante Ok E anche la voce Non so 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 E' un idiota Sì Puoi dire poi i livelli dell'audio Questa roba qua Sì Appena la pubblicità smette di rompere Ecco Ah ma vero Ma te sei povero Non c'hai Twitch Prime Esatto Parla un po' Culo Bene Marcello Stupido Stupido Abbassa Giusto Un pochino Il volume Della musica Ma davvero Pupo Ok Anche perché Più basso di così Devo abbassarlo dal mixer Per farti capire Che c'è in Iowa Mi sento Ehm Mire Ehm Bo Io Vabbè Vabbè Credo il canale A quel punto Ok Ma forse Basta Allora Allora io divento a seguiti sia dal mio canale sia dal mio canale sia dal canale Eh Niente Niente la c'è sta Allora devo cambiare il personaggio Io direi di farmelo come me e non farlo trash al cazzo visto che mi piacerebbe portare tipo una specie della mia armatura più o meno più o meno Visto che ce l'ho davvero Bedi ora non ti vantare il tuo Io ho un'armatura e me ne vanto va bene No non puoi Posso farlo senza un occhio Questo sono io nel futuro e questo sono io adesso Depressione Bedi però dovresti cercare di non farti più male E quello è il fatto Ciao Drake Ben arrivato Che il problema è che io veramente ce l'ho una cicatrice vicino all'occhio sinistro però non destro Comunque Ho lasciato in italiano per un motivo Perchè far ridere Posso andare a diventare tipo vecchissimo e quasi morto Alla app time adesso funziona? Ma che imbarazzo Guardi sei live da ben 7 minuti Wow Chiudiamo? Che dici? Abbastanza Troppo tempo Che significa ciambella scusami Ah Ma quindi c'erano i leghini per i capelli? Che cosa cavolo è? Ma questi sono i capelli che ho adesso in questo momento? Che imbarazzo Beh certamente non erano elastici Solo che Erano delle corde che si attorcigliavano dietro Marci Ma sono i capelli che ho adesso? Ciao Drake Che imbarazzo Niente Mi dobbiamo mettere questo Ma perchè si chiama ciambella? Vabbè 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 Peri del viso Troppo Che palle Per mettere il L'emoto Che imbarazzo Devo pagare No Che è schifo Non ci do soldi Ma scemo Marcello parla dal cesso Di nuovo Che palle Scusami Sto facendo me Drake Hai visto? Guarda sono Gerald Non è Gerald 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 Vabbè Cazzo me ne frego E adesso dovrei fare la mia faccia Però io Non lo so Tipo Ah Ah no Ah no 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 Come Cosa stai facendo? Come Cos'è Dai Cos'è quell'impostatura Tra Tra gli occhi Non Non può Non può È scavato dall'età Posso Posso Un alieno Baby Cosa stai facendo Con gli occhi Ora Non lo so Come Cos'è Scusami Mi ho messo Un barazzo Un barazzo Ok Questo muove questo Allora Ripristina volto Va bene così Perché scusami Mi cambia i capelli Mi cambia tutto No no Quello con la cicatrice Te lo metti con la cicatrice Sembra troppo Così chiama Dai questo sono un pochino più io Rispetto a quell'altro Paiuca Paiuca Ma come Paiuca Drake Drake Allora Fatto questo Non userò Non me l'ha salvato Mi sa Non me l'ha salvato Piango Sì E perché allora Se vado Mi fa vedere Questo cicciopanzone Le mie statistiche Tutto a zero Guarda il pesante Che c'è l'armatura tutta completa E poi c'è le braccia E poi c'è le braccia libere Con la maglietta Sta andando al mare Sta andando O è una maglietta quella O è una maglietta quella Venti dimmelo ora È una cotta di maglia Ah ok Ah t-shirt dai Valle lo so No no È che Rido per quell'imbarazzante traduzione Light armor Luce Dai Allora ci sono un botto Botto di classi Ma proprio Sai che significa Tante E poi sono quelle Che fai te Che non so Come si cancella Non so Come si cancella Ah E ci hanno anche le Vedi Cosa che non sapevo Ci sono anche le abilità Guardia forestale Guardia forestale Gioco che non conosce Nessun volimento imbarazzante Bedi È ora in live Luce Quando c'era il buio Allora Faggio ti ricordi No L'engine E l'unreal Engine 4 E l'unreal Vabbè Facciamoci una partita A parte Gli anni Per caricare No Allora ti dirò Nel menu Sembra una merda L'unreal Qui Però in gioco Fa la sua porca figura Fa davvero la sua porca figura We are the champions Aspetta Vai Togli il battle royale Subito Ok Worldwide Europa Ma Faggio a te non sei importante Anche se non ti parlo Non mi interessa Ma Non toccare Faggio E niente No Le traduzioni sono fatte Non con Google Translate Peggio Peggio Ora non so se Magari a un certo punto diranno Ma Sai che si fa Chiamiamo qualcuno Per farci fare le traduzioni Che non sarebbe male Però Puoi fare a cazzottoni Marcello Sai com'è La traduzione Fa schifo Proprio la merda La traduzione Proprio la merda Guarda che con Ah scemo No Fa bene così Faggio Figgio Sì Le compensazioni che ho con Faggio Su Instagram Soprattutto Io cerco di metterlo sempre a disagio Allora ragazzi Porci O Aquile Porci Ok Ok Prendo Quello pesante Tanto sono sempre io Uova Che significa uova E niente Uova Ah 40 frame Ambeato 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 Ah la su c'è casino La su c'è casino No l'ho mancava Ma questi sono in fisi o sono? Sono giocatori Ma quanto lento per dare un colpo Ah dai E' baffanculo Da dietro Cheverly sei tu E' proprio Cheverly E' proprio Cheverly Comunque devo abbassare un attimo le cose grafiche Perché sono Se che lo metto a medio Almeno c'ho un framerate più decente Se lo lascio alto Medio Ad alto Era 60 granitici Sì Sono in live adesso Tessuto C'è c'ha un bot di Razzi lenti Vedi E' così in ambientale La tolve Vai Vai E' diventato Cheverly adesso Proprio anche graficamente E' diventato cheverly Ora mi dispiace non farvelo vedere Tutto quanto al massimo Ma il computer è quello che è Quindi Dai Dai Allora Marcello Guarda qui Premo R Bellissimo Bellissimo Dai niente E dai ho sbattuto contro la colonna Che imbarazzo E' una botta fortissima contro la Contro la Come si chiama contro il Non so più parlare vai Basta Cosa c'è qua sopra Che posso toccarlo Non so parlare Basta Cosa fa Non so più Oh vabbè è andato lo stesso C'è anche il fuoco Ah ma è svenuto quello accadde a me che imbarazzo Dicevo perchè ora mi sta ammelando fortissimo nei denti C'è il fuoco amico E certo Soprattutto si può parlare di fuoco amico se non c'è fuoco Questo si è dato la cosa in faccia Sei scemo? Sì Lo dovresti già sapere che sono scemo E niente Vabbè Io sinceramente preferirei una minorità più Ma sei un'alleata Che cazzo? Ho una freccia a casa Allora per curarsi Ci si mette in un angolo e si aspetta Così? Sì Ah ho una freccia L'ho presa Una freccia nel braccio Ma soprattutto Sono entrati Ah sono entrati Apricot drape Cosa è più importante Cosa è più importante? La gente che mi fa male o? Ok Mi hai indirettamente risposto Ok O voi Immagino la gente che vuole uccidere Vabbè Vabbè Comunque è la prima partita che faccio online Eh ragazzi Quindi clementi Tipo I frutti Clementini E dai A me è l'allemico Ok Bullizziamoli Questa è la cavalleria Si Ricordanti che una guerra Non cambiamo Ma scusa Perché Questo serve meglio Di she A me sembra che le parati Non siano I Quello più difficili E for che cazzo almeno come dire imparare no no non è vero non te lo ricordi non era così quello era for honor qui però c'è delle meccaniche in più che io non sono buone e non te le faccio vedere puoi lanciare la spada? lascia stare non quella proprio i perry le parate i perry e altre cose che puoi fare dopo magari faccio uno contro uno contro un bot perchè non si può fare in normale e ti faccio vedere cos'è va bene e comunque non ho mai visto uno che in scherma para posizionandosi in quel modo in serpentina cioè non scusami in serpentina in in posta di donna no non è posta di donna è una specie di posta di donna Marcello è un videogioco se no poi esce fuori esce fuori quel gioco tanto acclamato di nome madonna di nome madonna di nome è uscita l'ignoranza scappo scappo di nome kingdom come che la gente l'ha odiato eh ma è troppo complicato e allora ma dai comunque vorrei farti notare che nella che nella selezione del personaggio il tuo personaggio non aveva l'armatura sulle braccia e sulle braccia e qui le ha quindi forse era solo una no ma aspetta questa è una classe più definita ma fottana ci lancio le cose madonna 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 bravissimo ha piantato la spada no è il pugnale ah il pugnale ah ah ma cosa mi ha ucciso vabbè mi sa che si muore anche di sanguoti no ma come gioco è bellino solo che adesso non si capisce una minchia perché perché è così anche nella realtà ve lo assicuro si soprattutto e soprattutto e soprattutto nella realtà non hai una visuale così ampia ecco che è una cosa che un po' mi dispiace che non ci sia in questo gioco e un po' dico ci sta alla fine si come come hai detto tu è un gioco cos'è ma madonna madonna tua madre madonna uno per parare si si mette come i Jedi in Star Wars per un pelo non l'hai colpito con me no oh oh dai il cavallo no niente come ti stai portando a dust vedo bene eh era una freccia che ti faceva sanguinamento ma lo sai che credo anche io ci sia sanguinamento? y no you need press f to kill che stai dicendo? ma f è il calcio? ma poi perché sei scritto uova quando spawno? uova? ma ci hai fatto caso? sono scritto uova mi piace se venire c'è eggs c'è l'altra traduzione qual'è perché eggs non vuol dire nulla per un respawn forse questa bisogna ricostruirlo perchè in altri sensi che reflection capture needs to be re-built madonna in faccia madonna madonna sono gli arcieri che hanno la mamma zoccola va bene in questo gioco mettersi sì ci sono ci sono un po di modalità in realtà ma non sono tantissime tipo la battle royale non la non esiste no non esiste la battle royale e poi cosa c'era più non mi ricordo aspetta c'era deathmatch a squadre questa qui il deathmatch tutti contro tutti questo adesso si piglia figli in faccia adesso e dopo ha preso fuoco non so non capisco il calcio a il molte a duello fra virgolette senso due schieramenti se muori devi aspettare il respawn e poi boh poi basta alla modalità urda che è pv è che non è male in realtà la chiave in faccia solo che comunque ti stavo chiedendo prima impugnare la spada dalla lama ha senso ha senso in questo gioco sì sì perché aumenti i danni e diminuisci il range a seconda delle situazioni conviene ho capito che sono le stesse del gioco norma della vita vera però diciamo che almeno tu il manoscritto che tu che voi prendete in considerazione è il fiore perché il fiore non viene molto figliata quello che devi fare ho visto stavo comodato come ho visto una lama della spada che mi arrivava sugli occhi a posto no aspetta voglio cambiare che bello che c'è anche la cavalleria quello lì è un nemico che cazzo ci fai qui torna al tuo paese non vedo più niente assicurato l'obiettivo è assicurato che poi la cosa divertente è che ci sono le armature sono simili a come se erano su niente oggi non ce la sto facendo dai dai su quel gioco che gli fa schifo a tutti no no kingdom come L'hai detto pure prima Eh lo so ma oggi Non si capisce veramente una minchia Più che te lo sono quasi morto Tutti alleati Non si capisce veramente un cazzo Ah C'hai la mamma zoccola lo sai Te l'hanno mai detto che c'hai la mamma zoccola Eh Un po' meno Madonna che male Ma Ragazzi Svenuti Cosa c'hai Marley Può fare la stessa community Oh dai No Perché Da chi? Non ho visto Grazie mire Poi E dai Non è che ci voglia molto Che imparazzo E dai Che sono stupido Comunque Gli attacchi Se ci avete fatto caso C'è un puntino centrale Che è dove stai mirando E una barrettina Intorno Che si sposta Quella è la direzione del colpo Che sei per dare C'è che dai E No Aspetta Aspetta Vai E in pratica A seconda di come sta Quella barrettina Da lì dai l'attacco Quindi anche quello Influenza il movimento dell'arma Il fatto che c'era anche su Su Chiverly Del Spostare la telecamera Per ritardare i colpi O Bluffizzarli Mi sta venendo un pallino Guardando Questo Cioè Vedo che dolore Farò no No Farò no Non c'è niente a che vedere Con questo gioco Questo qui Più difficile Più hard to master Di Sì sì Ok Intendo Ma che volta Se vuoi Insiedi No Non lo porto Basta Non si sta all'altro E' l'ultima volta Che lo porto Non si ti devo Menare Forti Niente Bravissimo Vittoria DJ Ma il rispondo alla battlefield Mi sa che si Ma aspetta La subscriber Non mi ricordo No è il follow Marci Non credo sia la subscribe È il follow Ah ok 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 Ecco Fai un attimo Vedere una cosa Ehm Drake Se ci sei Mi puoi mandare un alert Perché non l'ho neanche sentito Capito? Sta cazzo Mi ha rotto il cazzo Come gioco Comunque Non è male È carino Cosa Cosa ridisci? No No Scusa Mi fanno un po' Ridere le frecce conficcate Nello scudo Di quello là Ma perché Non mi ha ancora visto Le frecce conficcate Nell'occhio Di quello là No perché Cioè Di solito Le frecce Sono un po' Più lunghe Quindi mi fa pensare Quell'immagine No Oddio Dipende dall'arco Marci Magica No Ok Sì mi è arrivato Mi è arrivato l'alert Non si è disattivato Vuol dire che l'ha fatto Prima del Prima che andassi in live Ah ok Ehm No No Cioè Nessuno ha Un'estensione Delle braccia Con il corto Nessuno No un arco corto Scemo di merda Blu Sì Ma comunque La tecnica È che Devi portare Il braccio Alla Alla bocca La mano Alla bocca Quindi L'estensione È di tutto Il braccio Sinistro Se stai Impugnando L'altro Dove sta Finistro Ehm Ehm Vabbè seguo questi Che sono Sono il fattore A meno che Non sono dardi Cioè sono dardi Di palestra È un altro conto Eh Abbrerò passato lo scudo Non credo L'avrò si L'avrò distrutto Madonna Ma tu Tu hai mai caricato Una balestra Cinque Tempestica Ho fatto un errore Mi sono messo in mezzo A tre persone Che male No ma io ho usato Una balestra L'hai toccata Ehi Caricare Una balestra Comunque è molto Fatta pensare Drake Sì Immagino sia dura Una balestra Difficilissimo Io non Hai visto Sai quanto Riesco a caricare Cioè Impugno Un arco Da 40 libre Non sono Pro Deboluccio Ma la balestra Proprio Non riuscivo Poi Penso Agli inglesi Che impugnavano A Dai Allora Quello che hai visto adesso In live È Il tizio che mi ha decapitato È la web È la Prima di prima persona In pratica Quindi hai la testa Che rotola Ah Ok Poi penso Agli inglesi Che impugnavano Archi Anche da 120 libre E lì Mi viene un po' Lo scomporto Ecco me Sì Vabbè Ma loro lo facevano Per lavoro Madonna Ma questo Madonna Meriti di morire Madonna No No Alcuno Sì Vabbè sì È normale Ma in realtà C'è il bicornio Adrei Il marcello Ma in realtà Ma in realtà Chi è il bicornio Ma 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 Questo è perso Ciao Cristina Ciao Cristin non so usarli cavallio è scappato il bastardo adesso faccio un cobi cobi si ci vedo nella vita reale a impugnare un ascio prima o poi vorrei sbloccare quell'azza no è un alabarda mi sta cazzo di alabarda madonna mia adesso arriva l'ignoranza madonna si arriva l'ignoranza ma sai chiedemi dal cazzo via ma scusami tutto bene Cristina a lavoro? li mangio anche per staccato alla parte la posta di che parli? sono caduto ti vedrei che ma puoi prendere il cavallo di chi hai ucciso? certo bello questa cosa è bello vabbè sempre se non lo fai fuori prima immagino c'è se ci fate caso c'è chi ce l'ha giocato soprattutto questo qui è proprio Chaiverly che male ho visto il braccio staccato si è uguale si è uguale un cavallo che è alleato questa cazzo è bello le rivendicazioni le rievocazioni Cristina aspetta sono blu io non mi sbagliare questi ii ii vieni qua vieni qua dove cazzo scappi avete visto la cattiveria del mio corpo vaffanculo merda è lui lo vedo solo più in lento ma in peggio ma non in peggio questo questo è veramente io cioè se in un combattimento del genere e vedo qualcuno che sta scappando io faccio esattamente così Stracazzo vai bastardo Bedi prima o poi Prima o poi io e te dovremmo fare un duello Solo che io porto l'arco Ma scusami Non vale Porto arco e spada a uno In te non ce n'è neanche l'armatura quindi non si può fare Infatti è senso Aia Aia Non ti preoccupare Cristina Non sono un fine Perché lei che aveva scritto? Ah rivendicazioni ok No aspetta mi fa schifo lascia Adesso faccio quello C'è Faggio in là in chat Non credo No non non c'è mi dispiace Sono triste Pronti? Mi si è preso Ma davvero? Madonna Il menestrello? Madonna Madonna il menestrello Gli faccio vedere io adesso il menestrello a quel tizio Dove è andato? Ma f*** con i tizi Dove è andato? Cos'è quello? Il juto? Il che? Non mi ricordo Sì è un juto Un fiuto Dove è andato con lo scemo? Lo attiro Quanto sei bello Quel tizio lì dove cazzo è andato? Aia mi sono rotto le gambe Permesso me ne signor tizio Scudo termico si chiama Presto? Non si può vedere Il tizio che va in guerra con il juto e il martello da parte Non è il juto Se glielo faccio vedere io ho il juto a questo tizio Aia mi ha ucciso l'alleato Nella schiena mentre correvo Niente Ve l'ho fatto vedere che c'è l'ingegnere e poi basta Da te piove Cristi? Qui c'è un solo Da qui vorrebbe piovere ma non ce la fa E' tutto bello limpido il cielo Tra poco mi sa che vado a farmi un giro pure Adesso ti faccio vedere che con la Svayunder Si va in serpentina Si va in serpentina? Scusi Ah Carina Con la R no? Madonna Ma dai Ma poi Ma perché? Proprio il gioco come una vita vera Comunque Io non porterei mai la Svayunder Ma neanche io Infatti mi ho già fatto Mi è tenuto il male A vederlo Ma perché più che altro devi fare i livelli Come su Chiverly Uguale E farti le Come si chiama Farti le Sbloccarti le armi Comprandole Con i soldi di gioco Per fortuna Ora la gente che va senza elmo Non sa che L'armatura è divisa in parti No? In questo gioco Quindi se non hai l'elmo La testa Vieni one shottata Dagli arcieri Ebbè Ebbè E anche giusto Chiudo la foto Guarda che casino Guarda che casino Ma se io faccio lo steltone Incredibile E gli vado alle spalle No 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 Sono alleato Vado Ha visto che ha provato a uccidermi Io mi immagino In guerra Tu Uno ti fa una Hai visto ha fatto il Bicornia Sono un'arma che non credo lo puoi fa Però E tu gli urli dietro Coglione Mentre quello se ne andai Su cammela Aspetta Ma forse Non sono volente uno schifo di persona Ti stanno sparando Ma quello Ma Ma ti begga? Ti ha lasciato andare Adoro questi giochi Ci passo Ci passo Ci passo Ti è entrato il trocco in testa Ma vabbè E dai Mazzocco la C'è mi ha sparato in bocca ma che bastardo Oh cazzo Era alleato C'è qualcuno che ti spara Ma dai Ma questo è il mio amico Morto Cosa c'è da parte dei cinghiali o dei Delle aquile Non ce la facevo colpire Tutti quanti E soprattutto a pararti Vabbè come giochino è bellino però Cioè è bellissimo Ti piace c'è Per forza anche questo Perché è uguale Vabbè fatta questa Qui tu vi faccio vedere le cose in più che ha rispetto a Chiverly No? No Non interessa a nessuno No scherzo Un po' bianco No per te perché? Sì Non riesco a farlo un bel covi Ma Cazzo vai Ho lanciato il coltello qui Dove è finito? Ah ma è una No No Secondo te voglio la spada al posto del pugnale Voglio il pugnale al posto della spada Ah con uno solo cambio Ti tengo premuto cambio Vabbè Scusi me lo tieni cavaliere? Aspetta Ho perso Perché mi ha investito Mi sa che mi hanno investito Che imbarazzo però Che imbarazzo E poi c'ho anche questa cosa qui Sto gioco Ma io non capisco Com'è possibile Che muoio così A caso No Faggio Non è solo Ti sei perso Una cosa incredibile Faggio ti sei perso Una cosa incredibile Continuo a lanciare le cose Sono Un civile Lancio le cose Aia Incredibile Non è Ah Ah dai Ah pensavo fossi nemici Fossi alleati Sono stupido Madonna quanto Quanto ti ha Sono stupido Perché Mi sono distratto male Ha fatto lo spiedino Con la tua testa Sì A parte che mi sta venendo Lo schifo A vedere un tizio Chi usa Una lancia Con una mano sola E lo scudo Però Vabbè Ma Ma Ehm Vabbè Beh senti Non Non ti puoi lamentare Se Per te Sparare in quella Posizione È accettabile No Vabbè Non è che non è accettabile È È un gioco È un gioco Quindi Si possono impugnare Le lance Con la mano Vabbè Si è buttato di sotto Quello Ma Se ti butti Da questa altezza Vabbè Ok Io l'ho pittato Nella testa Corro 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 C'è un cavallo Tanto del veicolo, cioè il cavallo viene chiamato veicolo, muori, bastarda, mi sa che ha ucciso il cavallo, ops, il record di otto spade, gli otto mani, niente faccio, niente faccio. Chi è? Chi è? Chi è? Ma lo sbetti di colpirmi? A parte che ho colpito il re io, però. Il re? Ce lo sei? Sì, questo, che va difeso. Se lo colpisci diventi nemico? No, se lo colpisco sono stupido perché... E tu vabbè? Sconfitta. Non dovresti essere qui. Eh, lo so, Faggio, è andata così. Non posso farci niente, c'era... Il casino della battaglia, la sconfitta. Beh, al mattino ti fai un... Qualche bella costina con... No, Marcello! Scusa. Si, banna... Banna Marcello. Ma perché c'è questo panzone davanti? Ah, ma perché è lui? Non lo posso eliminare. Vaffanculo. Sì. Pure tu, vaffanculo. Sì. Quindi se io metto lui e vado nel menu... Ma perché devi... Devi bannarlo, Faggio? Devi bannarla, Faggio. Che... Che... Scusami? Miscelaneo. Allora, aspetta, vi faccio vedere... Quello che dicevo io... Di questo gioco... No. Lasciamo di merda. Ok. Vedi? Perché in questo gioco non c'è la competitiv... Non c'è il gioco competitivo... E quindi la gente si diverte. Che cosa magica! Ti beggava, vabbè. Ti beggava... Ti salutavi... Cioè, lo salutato mi ha lasciato andare. Questo è quello che mi manca nei videogiochi. Roba che è davvero... Ormai è... È impensabile. Ma non... Cioè, non esistono più giochi come questo. Che imbarazzo. Se lo fai nei giochi normali... Viene insultato male. Ma papo male viene insultato. Diceva gioco metile. Eh, lo so. No, questo c'è la Zwei Yander. Che voglia di... Splodere. Ah, devo spawnare. Scusatemi, eh. Oh! Metai. Aspetta, fammi uscire dall'angolino, bastardo. Belle parate stai... Facendo. Allora, questo qui è il Perry. Niente, questo l'ho ucciso. Perché pensavo facessi l'attacco e... Non mi distrarre Baddy. Gioca bene, scemo pagliaccio. Vabbè. Allora, fai... Questo è il Bicornio. In pratica, se te fai l'attacco... Come la parata... Nello stesso lato del... Eh, vaffanculo. Nello stesso lato del... Dell'attacco. Dell'attacco di quell'altro... Porca troia. Microphone muted. E niente. Abbiamo... Baddy che... Che parla davanti alla camera. Eccolo. Che barazzo. Allora. Mi li ha... Eri tu a... No, è mia madre. E niente. Cazzotti. E niente. Poi. Allora. In più, se non hai stamina e ti colpiscono... Cioè, cerchi di parare senza stamina. Ti perdi l'arma. E in più c'è anche questa cosa qua. A posto. Questa è violenza gr... Che scusa? Se ti fai il tutorial... Capisci che è difficile il gioco. Però tanto la gente... Va avanti a... A menare le mani e... Vabbè, ma... Cioè, devi anche capire il... Il contesto, eh. Tua madre. Questo era il Bicornio, Marcello. E mi fa piacere... Mi fa piacere il Bail. E mi fa piacere il Bail. Ehm... Proviamo. Adesso. La metà urda. Togli il front. Ponto. Allora, Faggio. Era un ragazzo... Posso dire che queste canzoni che mi stanno facendo mi fanno schifo. E soprattutto, non so perché non mi fai il tasto del switch delle canzoni. Ah, perfetto, Faggio. 60 minuti. Incredibile. Quasi, dai. 4 minuti te la... Te la... Te la buono. Dai, vai in Battle Royale. Su, su, su. No, mai. 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 Ma sai che significa mai? Ma se è in Battle Royale a squadre o è solo in single? Credo se è solo in single. Non lo so. Credo neanche squadre perché c'è il... C'è il... Festa. E quindi... Boh. Scusa, filtro non pieno e ti dà un server 74 su 64. Scusami. Per niente niente. Ho le schizze. Vai, questo qua. Accoppiamento. Hai capito bene. Lascia la pesta. Accoppiamento. Niente, il server è full. Accoppiamento. Pairing. Accoppiamento. Che imbarazzo di traduzione. Madonna. Oh, grazie a Dio. Che cazzo. La quinta server che provava a entrare mi diceva. E non, ma è pieno. Aspetta. Con il filtro... Server non pieno. Vabbè, ma perché devi aggiornarlo. Infatti questa qua è una cosa... È un'altra pecca del gioco. Che però, vabbè... Manco nei giochi ti accoppi. Eh, lo so. Fa giò che ci vuoi fare. Che imbarazzo. Comunque come gioco è molto di niccia. Perché non vanno sti giochi. Ma come avvenghi fino all'orda successiva per rinascere? Eh, devi attendere. Tra l'altro stanno... Alla quinta orda. Ma che fanno laggiù? Oddio! Che cazzottone. Che cazzottone. Ma questo li sta facendo a cazzotti proprio. Ah. Beh, ma questo sta con la... Con la zappa e la balestra. Io boh... Un vero contadino. Eh! Ma con la balestra? Con... Con che corda... Che corda ha? È una corda. Ma è bianca. Sembra in... Marci ce l'ho a medio. Di gioco. Ehm... Sì. Quindi il patti da fetta? Esatto, Drake. Esatto. Ho mangiato le patatine, poi ho pranzato. Io ora ho fame. Ma che problemi ho? Troppi, Faggio. Si chiama Tenia. Anche quello è vero. Con cosa hai pranzato, Faggio? Dai, dai, dai. Dillo, 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 dillo. Beh. Che mira. Coglione? Invece di... Di fare battute... Sulla morte. Rispondi alla domanda di prima. Quale? Che cosa pranzà? Ah. Intanto non c'è più, eh. Fido. Ma hai visto? Che con un gancione incredibile le ha bustesi due, sto tizio? Batonda, che male. C'è anche uno a cavallo o sbaglio? Sì, fino al nord successivo. Siamo in tre. Ma poi cos'è? Lì c'è 150 di ping, c'aveva. Ma che imbarazzo. Quanto sta correndo. Fastest fuck. Ho preso una falce. Molto utile il battimento. No, ho detto che sei una merda fagile, facciamo già. La cosa è divertente è che non è che puoi prendere il loro equipaggiamento. Che male. Ma io ho mostrato il pugno, ho fatto... Siamo i super amici, io e lei. Non ho torto. Più o meno. Super amici, fratto. Ok. Roccia. Non mi sembra il caso. Falce sta a 90. Ma un'arma? Dove la posso prendere? Corro. Corro. Ma dov'è che sono virtualizzati i soldi che hai? In basso a sinistra c'è un tesoretto. Petto raro. Petto comune. Petto di pollo. E che quindi è coperto dalla tua faccia. Lo sai che è coperto dalla tua faccia, vedi? Eh no. Ora però sì. Ma se volessi uno squadino di merda. No, c'era il falcione. Ma che fob hai, vedi? Cento, cento. Mina? Il pugnale sembra un po' forte. Ma perché non è un pugnale? Sì. Ah. Siamo amicissimi. Non è vero? Ti sai come si chiama, scemo di merda? Lei sa che, se, lei sa che ti chiami Faggio. Di merda. Quindi è un po' forte. Però ti chiamo anche io Faggio. Ti chiamo, anche tua madre ti chiama Faggio. Faggio. Oh. All'anagrafe mo' non sanno neanche chi cazzo sei. Ti chiamano Faggio pure sulla carta identità. Allora, ehm... Faccio un po' scherzo. Mia madre mi chiama Faggio. Tua madre si chiama Faggio? Come non sai come si chiama? Non l'avevo detto. Forse hai una memoria di merda, semplicemente. Tipo questo qui che con un pugnale riesce a parare una falce. Ma forse è sempre lì, diciamo, e non l'ha letto. Bellissimo. Questo, signor Faggio... Continuo. Peccato perché non sono entrati altre persone, visto che gli altri erano pieni al cazzo. Io credo che Faggio non voglia nessuno dei due. La direzione del corpo o direzze... No, petto! Petto non è l'armatura! Provi di petto di luce qui, ma le casse è cosa random! E se cambia stanza su questo? Sì, 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 sì. Ma vaffanculo. No, dai! No, dai! Mi sono incastrato! Ma vaffanculo, mi sono incastrato! Madonna, ragazzo, disinstallo! Andiamo a giocare a un altro gioco, andiamo a giocare a Minecraft. Oh no, ho sbagliato. Ma con la faccia dove l'ha presa, che mi piace. Fica! È lunga. Perché il cognome non lo voglio e il nome è stato scelto per motivi cristiani. Hai visto, Faggio? Vabbè, è dato che vi ci sta partendo, non ha un problema. Che bello! Guarda. Toc! Che divertimento! Ma perché io ho la sensazione che i bot non è che sappiano proprio bene come salire le scale. Cioè, l'intelizionante visuale di questo gioco è una merda. No? Basta. È una merda, basta. Non è pensato per fare un gioco, una cosa del genere. Cioè, non è questo il fulcro del gioco. Però è una merda. Zappa. Qual è, Faggiot? Comunque la gente ha già imparato a fare i giri per evitare l'orda. Che depressione. Lorenzo? Oh no! Oh no! Tu metterei delle cuffie e userei un telecomando? Che significa NA? Ah, come corre! Che vis-devo? Meglio cambiare modalità, così almeno gioco un po'. Così inizio con quest'arma, tipo? Sì, alla fine sì. Non c'è molto da partidire. Non so giocare, più che altro. È meglio una modalità qui. Entro, muoio e rispawno. Entro, muoio e rispawno. Da Faggio a Faggio. Faggio a 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 Faggio. Peccato che vorrei fare un bel po' di livelli e farmi l'armatura, un'ora, ah è vero l'hai fatta anche prima Grad, Stalingrad Che poi Marcello devi sapere che ci sono tutte le armature quelle del quasi 700-800, è morta la voce mentre fa Tutte le armature molto avanzate, però non ci sono i fucili, anche se esistevano all'epoca, meglio così eh Quindi i fucili a moschetti, e devi mettere la polvere da sparo, devi mettere... Ma meglio così piccato perchè la gente userebbe solo quella Beh, sarebbe un po' troppo oppi probabilmente Porci? Vada per i porci Vada per i porci, ma siamo tutti porci qua Siamo tutti i soldati Da, con questa mi divertivo come un bastardo Siamo tutti i soldati Beh Stato dicendo perchè ho sempre quei perdenti E invece... Una ragione in teoria ci sarebbe anche e non è bene Che distanza Che distanza mi ha preso Io ho come la sensazione che le armi a due mani abbiano tutte la stessa gettata Oh Questa cosa non è che mi ispiri proprio tanto, eh, come... Ma che stanno facendo? Aia! Madre, aia! Uh, ma io di legno Lo prendo Perchè è diventato dubstep? Perché io sono nella cosa di... Uh! Duh! Posso salire da qua? Uh, aspetta Niente, l'arcello se n'è andato Ehm... La cosa è un po' imbarazzante Per un po' imbarazzante intendo molto imbarazzante Che adesso io tiro questa fare... E niente Dai! Ma alle spalle! Gizza Dai! Faggio di me! Non si dicono queste cose Adesso dobbiamo fare un personaggio Che si chiama... Perry Potter E diet E diet No, ma da là sopra che lo risparla No, ma da là sopra Corri! Corri! Scherzavo, scherzavo Aspettate, mi devo fullare la vita E dai! Ma! Ah, ma era quella una mano! Ecco perché me l'ha tirata fortissimo Che sbaglio Ho detto come cazzo ha fatto a tirarmela? Io non posso E questo è il pupusciare per le Sono bravo a colpirli con la lancia soltanto quando muoiono Ma questo che corre ignudo? Dietro di te Cambialo da out subito Faggio ci sei? Faggio ci sei? Prego dimmi che non ce la sei andata un'altra volta Non è male Ho un liuto! Ho un liuto! Mi ha ucciso l'alleato No, un nemico Che imbarazzo Hai visto? Suono la chitarra Hai visto? Molto utile No, in realtà non è questo It's fucking Che è successo? Cosa? Perchè una? Ah, che fastidio Dio Ma non mi posso romper niente Questa è la finita la gente sottovaluta sempre gli ingegneri gioia com lasciatemi cantare con il luto sono un barbagiano si bello concordo scriviamo tutti quanti quanto si è bello jacob col sexy jacob bello quel tizio molto lavoroso assicurato aia quanto lo carico madonna se lo carico non l'ho caricato forte quello è una mazzata in fronte fortissima dai se riusciamo a prendere niente non ce la facciamo a prendere quello pittino torna qui torna qui torna buono questo obiettivo ok faccio con una parata ho bloccato una freccia con una parata ragazzi che imbarazzo sapevo si potesse sapevo si potesse una pala dubbi mi sembra che qua da qualche parte c'è anche un martello Oh. Che bello. For dai. For dai. Ma- What happened? What's that? Vedere questa cosa come si costruisce? Quanto è sanguinosa però Cosa è bello, Gnaco? Gnaco! Ok, potrei costruire questo A quanto vale L'utilità? Eh basta, se mi fai vedere una cosa del genere portiamo un altro gioco Il non è tutto Buono, 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 buono. Eh, 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 guarda che sono acili questi tizzi del battere, incredibile. Eh, dai! Eh, baby, scusa, mi sono dovuto assicurare. Eh, che sistema? Tutto molto più... Più frenetico? No, più silenzioso. No, dai. No, dai, sto sopravvivendo, che imbarazzo. Infatti, allora, ho passato tipo 5 minuti, quasi. A martellare della roba per costruirla, perché mi stava prendendo bene, non so il perché. Mi era preso bene. E Faggio si è incazzato, aveva ragione. Ah! Era il nemico? Io gli sono andato incontro. Incontro. Che stupido che sono. Baddy, 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 se non sei tu, baddy. Chi sono, scusami. Non lo so, però è quello di un'idea. Oh! Vieni qua. Sono andata una botta sul culo del cavallo fortissimo. Che! Che! Oh Sale 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 Madonna quanto male fa madonna Ma perché mi permette di aspettare gli avversari? Ah non lo faccio Ah Dimentico di respawn al vittoria Cosa ho fatto? Schifo A parte Ehm Niente non mi ha fatto vedere Beh Stai laggando Stai laggando? Perché stai laggando? Perché perdi i pacchetti in uscita Ah beh ma in live sembra andare bene Sì Ma è davvero poco Vabbè Si sta però alzando il pingo piano piano Sì Eh Si sta alzando molto Quindi Vedi tu Non mi sta facendo vedere Quanto ce l'ho adesso? 90 Ah vabbè dai Molto C'è di peggio Magari si abbassa Magari si abbassa Ci sta che mi si sia alzato perché sta caricando il server nuovo Forse è che sei per quello Ah può essere Dovrei essere arrivato a un'ora e mezzo no? Più o meno Figato per capire quanto dura una partita Vuoi che ti faccio l'uptime? Sì dai Un'ora e 26 Eh si Più o meno Più o meno e mezz'ora la partita Solo che mi si è Frizzato tutto Mi si è frizzato il gioco Ok Faggio ha scritto potrei esserci per cosa? No nulla Lascia stare Ok si Si è Riabbassato il gioco Solo che non capisco perché Ok Ma che risoluzione scusami Gioco? Vabbè Che schifo Dai! Che sta succedendo? Eh dai Ma che imbarazzo Ah ma lui aveva il corpo stra ultra duro e perciò le punte non facevano nulla Com'era il corpo? Ultra duro, duro 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 Ma solo il corpo? Spero di sì Spero di sì Sennò sarebbe stato un po' imbarazzante Che polmoni! Bravissimo! L'ho preso! L'ho preso! Che male! Che male! Che male! Che male! Che male madonna! Dei combattimenti, fatti benino. Eh, no. Individere il sangue, la violenza... Come si si era piantato. Bravissimo! Parkour, no, niente. E' stato un calcione nel culo fortissimo. Chi è rimasto su questo? A posto. Sto diventando bravo. Sto diventando bravo. Sto diventando bravo. Ah, dai! Quello mi sa che si è glitchato. Oddio! Mi sono arciato là sopra. Devo scappare! Devo scappare! Devo scappare! Ah, beh. Messer. Chi è ormai il messer? Mi sa cazzotti! Non sono tanto sicuro. difficacolo, non sono tanto sicuro. Di fatto! D'accordio! Cosa ti ho! Abilazā. E' di fatto! Di fatto di Scottie! E' a posto, via. Adorla con i minuti di sto gioco, è impossibile. Niente, ho provato a bandare Marcello ma non ci riesco. Ma perché devi bandare Marcello, Faggio? Faggio? Dai! Cattivo Faggio. Marci ci sei? Eh? E ti ha provato a bannarti e non gli dici nulla! Ma scusami, perché? Perché sei gay. Ma? Con la H. G-H-E. Perché mi sono reso conto mentre lo dicevo che non potevo dirlo e quindi l'ho censurato. Oh no! Oh no! Oh no! Nello stretto quest'arma non è possibile. Nello stretto? Quanto sto? Quanto sto? Sette cinque? Dai! E' una settanta di ping quasi. Sette cinque. E' una settimana di grado. E' una settimana di grado. E' una settimana di grado, ma che è una settimana di grado. a 5 euro mi divertivo senza ombra di dubbio quello si mi sa che non ucciderò mai nessuno vieni qua e niente ma basta ma in meno negli alleati perché l'ultimo colpo che mi da il nemico con te è nemico quello che l'ha ucciso ma perché cavolo mi stanno uccidendo soltanto i nemici cioè soltanto gli alleati che imbarazzo perché c'hai vanno lì madonna madonna ci sei morto eh ti prendo anche la spada vai così ne ho due no scherzo qualcuno lo dice ma come giochino è bellino in realtà non mi ricordo chi è che era fissato come me dice Iverly certamente non lì è un bel mi sa drake quanto urla però troppo che male un colpo in faccia è bastato comunque drake 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 buddy faggio sta mostrando tutti i suoi non posso dire che ha in più perché stiamo perdendo tutti i suoi torna qui torna qui la testa di nuovo 3 e si deve il fatto so che l'ho detto io per primo però dai l'ho detto ma non l'ho detto quindi l'ho detto a 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 Capito Mi ha ucciso l'alleato Mi è arrivato da dietro il colpo E eravamo in maggioranza Quindi non credo Vabbè Quello andava stealth e due imbecilli Corrono e urlano Dove stanno Un quale lag Oh scemo di merda Che lag scusami Che nulla nulla Ah pezzavo mio Farto mi ha fatto prendere Dai sto ricatturando il punto un'altra volta Che imbarazzo Sto facendo più schifo vero 810 si Mi figlio è il tuo schifo E dai E dai Fatto la stronzata di pushare E dai Chiara che ho fatto Non ho visto Un attimo No Twitch eh Grazie che ho messo il follow Ma non ho visto bene il nome Non sono professionale per un cazzo Dai però dai L'ambientazione ce l'ha No dai però dai Non è niente E' girato verso di me per... Ammazzarmi male Ammazzarmi male Mi sa che la perdiamo Perché non sto riuscendo a ricatturare il campo Non ci provassi di andare di là Non ci provassi di andare di là A vedere se lo posso ricatturare io Da solo Il sole ti ama Ma no Non ce l'ho Adesso il sole in faccia Ho chiuso la... Lo dà il sole Betty Bloccato Non è niente Niente Vabbè Tu c'è talent scouting 1 Grazie per il follow Ma... Te faggio sai chi è? Non credo sia... Qualcosa di serio Ma è bella sta muovendo sul proprio fondo Abbastanza Ma adesso devi morire Ah che male sul piede me l'ha dato A me è da ieri mattina che mi follow a gente su Instagram Prevalentemente DJ Buon per te A me continuano a scrivermi i bot Del... Come si chiama? Quelli dello spam per uomini Vai diciamo così Che è più family friendly E io li segnalo tutti E Twitch mi ringrazio sempre Perché stai tuttando Me la prendi? No Scusa Gente da oltre 5 milioni a fondo Vabbè Vabbè Mi sbaglio una volta Mi... Mi sefollo Un... Un notatore Ma... Un professionista Almeno non ti seguono streamers che vogliono consigli Eh Ma... Ma te ti seguo uno streamer che vogliono consigli Ma streamer... Non so se puoi parlarne Però Guarda che ci penso Che filmo Mi follow a me Perse un altra E il vignitori fake E dai Non devi passare davanti E dai Ah, non, c'è un po' di farlo. ah di diete niente christy sono stupido non ho gli occhi non ho stiamo perdendo veramente male che imbarazzo molto che imbarazzo devo ammettere però vedi stiamo busciando pensavo che fosse una modalità conquista alla battlefield di quelle che si c'è la mappa però se vai in fondo al loro spawn riesci a catturarlo e bla 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 e di e questo disperde tantissimi giocatori invece questo qui è molto cioè ecco la versione tipo link di battlefield sempre dai abbiamo il campo cazzo ho sbagliato ma è tutto rosso cazzo c'è un video di blu che imbarazzo no aspetta io sono rosso che imbarazzo mi sbaglio ho toccato anche l'alleato eh dai mi ero bloccato sul codo con l'affare vabbè comunque marcio ci sei ancora forse come forse comunque il giochino secondo me merita magari io l'ho pagato nooo venti euro se non mi sbaglio venti euro magari no ma sono i quindici sei aah aah nel ginocchio raga pesa una freccia nel ginocchio ora sono 0 ma e dai stanno pushando malissimo comunque già stanno facendo i meme di questo gioco qui che gli tagliano la testa la testa comincia a rotolare e viene il meme di skyrim che sei sul carretto di skyrim e cioè farti capire già che il gioco è quello che è e poi c'è la gente nuda che corre che male che ma che ma gli hanno ucciso il cavallo è caduto a terra e c'è l'animazione che si deve rialzare no? mentre era mentre era a terra l'hanno circondato tottino e quindi quella mia squadra l'hanno impestato malissimo e vabbè e vabbè eh no questo non ho visto comunque vogliono una cazzo di alabarda comunque è molto molto bilanciata sta partita no? vabbè 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 No, ok Però l'hanno fatto ritirare tantissimo Ma menalo bene, menalo Madonna mia Ah, sbagliato Volevo fargli il perry, ma non sono troppo sicuro di poterlo fare in quel modo Guarda, sono un giocoliere Marcello, vai dire, vittoria Uptime Perché non sa che la chiudo qua Magari in livello 3 Sì, dai, quasi due ore ci sta Ci sta, dai, ci sta, ci sta Ci sta Chiediamo Occhio di falco questo qua, eh, comunque Tale e quale Ehm Non lo so se posso già farmi una Ah, mi sa che non me la posso fare Una mia classe Perché gli elmi quelli fighi cominciano a... Fighi, fighi Quelli che dovrebbero essere I... tipo il mio elmo Sta nel... livello... Dov'è? Non ho il club visor Casco vicino, non si può vedere comunque Dov'è? Ehm... Si chiama Viserio di... Di... Bardù Dov'è? 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 Non lo voglio dipinto Lo voglio normale eccolo qua livello 14 non lo posso ancora avere per dire non so se c'è anche la livello 13 gilet dei lavoratori no eh questa qua è la mia anche se è al contrario perché mi sa che questa qua è tutta quanta fatta di imbottita cioè tutta quanta fatta di pelle non imbottita scusa dai ci sono ci sono non li uso facendo una sorta di mia armatura comunque piano piano sono tutti cosmetici diciamo che niente scalzo scalzo è povero il cazzo adesso che non mi torno è perché alcune alcune cose non ci sono ah ok eccolo qua le gambe ma non sono queste mie beh sono quelli gotici tipo o questi però è livello 7 non me li posso ancora permettere cuffia per forza che non è proprio così però quasi sono anche gli elmi allora no te l'abbè vista Marcello la mia armatura la tua proprio no è simile a questo tanto che invece di avere le placche interne cioè le placche esterne c'è la interna però non c'è quello immagino che quello che fa vedere è quello senza le placche diciamo e poi mancano le gambe e poi mancano le gambe mi mancano manca l'elmo però bene o male l'armatura mia è questa bene o male mi manca ma manca anche il collo però vabbè quello è il meno vabbè in realtà no il collo non mi manca perché non c'è tipo così tipo questa è più o meno la mia armatura più o meno però così sembra in mutande che imbarazzo eh le armi poi vediamo cosa mi posso permettere stocco la battaglia la polax questa è bellina la barca non mi piace la barca non mi piace che il longbow abbia più la velocità maggiore grazie al cazzo no dai questo oh no puoi modificarti anche l'arma ma c'è eh cazzo puoi modificarti l'arma visivamente pure cazzo ma la personalizzazione è enorme allora peccato che mi piace però così pubblicazione durata della fase di negozazione dei danni no beh marci se ti vedi le statistiche sono imbarazzanti perché eh ce l'hai la live aperta si stai vedendo la tabellina che mi è uscita fuori le statistiche avanzate bene però se c'è di male che ti dice tutto cioè è maniacale eh è poco maniacale bella bella mi aiuto mi sorriso mi aiuto danno da pugno salto salto ma perché diventato dubstep eppure sono in cosa rock vabbè un po' Grazie a tutti. Ah, figa. Buono. Allora, c'è una cosa che ti dice... C'è una statistica, non una statistica, scusami, un perk, che si chiama Flashwound, no? In pratica ti dice, guarda, un attacco mortale... Marce? Un attacco mortale... Non ti uccide subito, ma dopo cinque minuti. Però... No, dopo cinque secondi sei cinque minuti. Dopo cinque secondi. Però non è garantito l'integrità degli arti. Quindi, secondo me, se ti tagliano la testa, hai cinque secondi, ma non vedi. Perché la tua testa è rotolata da qualche parte. No, ha decisione di colpi alla testa. No, è tipo... Tagliano una gamba, credo che tu cada per terra. Però rimani cinque secondi lì. Oh, no, aspetta, non ti metto sta roba. Devo ancora mettermi l'elmo. Che non so quanti punti chiede. Poi io... Testa, 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 ecco. Mi sa tre. Ah, che figo. Ciao, Vaggio. Comunque adesso stacco, quindi niente. Vabbè. Tanto adesso giocherò un po' da me. Per conto mio. Vedo di farmare un po'. Così finisco di farmi l'armatura del mio personaggio e poi userò quello. A quel punto. Ma comello? Drake? Io me ne sto chiudendo. Comunque spammatemi il... Il social. Perché sto... Chiudo la live. Grazie a chiunque è passato. Grazie ai follow. E niente. Ci vediamo la prossima volta. Che proverò... Magari se qualcun altro se lo compra dei nostri. Non so, tipo Drake. Se ti piace. Tanto è Chiverly. Niente. Passate ai nostri canali social. E ci vediamo alla prossima. Ciao. Marci? 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 Ciao. Ok.